Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora Gerusalemme, giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti, e fuori di sé per la meraviglia dicevano, tutti costoro che parlano non sono forse gallilei. E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponte dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani, qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Pace a voi Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste Così ci introduce la nostra prima lettura Ma questa introduzione di compimento fa riferimento a tutta l'opera di Cristo E poi fa riferimento a quanto Gesù ha promesso In particolare quello che ascoltiamo nel Vangelo di questo giorno Santissimo di Pentecoste Pregherò il Padre ed egli vi manderà un altro paraclito Che sarà con voi per sempre Un altro paraclito Sì, perché Gesù stesso sente di essere paraclito presso il Padre Di essere stato paraclito con noi Nel senso che Egli è venuto A parlarci del Padre È venuto a convocarci nel nome del Padre È venuto a portare la salvezza come consolazione nel nome del Padre È venuto a predicare la conversione nel nome del Padre E per il Regno che il Padre ha preparato per i Suoi figli Ora un altro paraclito Viene mandato dal Padre Perché Cristo salito al Padre Intercede per noi È un altro paraclito perché in qualche modo Ha le stesse funzioni Di convocarci Come assemblea di Dio, come popolo Di radunarci dai quattro venti dove siamo dispersi Di parlarci Con le parole di Gesù Che sono Le parole del Padre Di portare in ciascuno La consolazione della salvezza Nel portare ognuno Alla conversione Nel dare a ognuno Il perdono dei peccati Che Gesù Cristo ha ottenuto per tutti Lì sul legno della croce È un paraclito Che parla Molto vicino Al cuore dell'uomo È un paraclito Che sussurra La potenza di Dio All'orecchio dell'uomo È il paraclito che introduce Nel cuore dell'uomo La potenza salvatrice di Gesù Cristo Questo è il compimento Ma cosa avviene Il giorno di Pentecoste Perché ci sia il compimento Di quello che Gesù ha promesso E di quello che Gli ha fatto per noi Si trovavano tutti insieme Nello stesso luogo Sì Sono insieme perché Stanno obbedendo Al comando di Gesù Di non allontanarsi da Gerusalemme Per ricevere Questa forza dall'alto Sono tutti insieme perché Lo Spirito Santo Li tiene uniti Lo Spirito che Gesù risorto Ha dato già a loro Nel tempo Dei 40 giorni Quello Spirito Santo Che Li ha resi Ancora più uniti Come Gruppo Gruppo Degli apostoli Dei discepoli Insieme a Maria E Mentre sono insieme Nello stesso luogo Perché obbedienti E perché tenuti Così dallo Spirito Venne All'improvviso Dal cielo Un fragore Entriamo Entriamo In una Teofania O potremmo dire Anche in una Pneumofonia Cioè Una Manifestazione Potente Dello Spirito Santo Gli elementi di forza Il fragore Il vento Che si abbatte Impetuoso E la pienezza Di questo vento Impetuoso Che riempie La casa La Chiesa Respira Lo Spirito Santo Non è solo un gioco Di parole Perché lo Spirito E' vento E' aria Che si muove No E' soffio Cosa di più Noi respiriamo L'aria Per vivere Come cristiani E come Chiesa Di Cristo Respiriamo Lo Spirito Per essere Cristiani E' per essere Chiesa Di Cristo Ora lo Spirito Riempie La casa Lo Spirito Riempie La Chiesa Lo Spirito E' il soffio Da respirare Per essere Chiesa Ma continuano I segni forti Della Teofania Dello Spirito Santo Apparvero Loro Lingue Come di fuoco Ecco Questo Paragone E' interessante Il rapporto Tra lingua E fuoco Allora La forma Della lingua Come di fuoco Non lingue di fuoco Come a volte In maniera semplicistica Noi traduciamo E' una simbologia Dello Spirito Che ci fa pensare Alla sua azione Ma è una simbologia Non è fuoco Che cade Sugli apostoli E' lo Spirito Di Dio Che scende Su ciascuno Di loro E per poterli Raggiungere Nella loro Individualità Ecco che Sono lingua E per poter Operare L'effetto Dentro Il cuore Dell'Apostolo Dentro il nostro Cuore E come di fuoco Quindi c'è Una dimensione Personale Dell'incontro E c'è Un effetto Personale Dell'incontro Ognuno Riceve Lo Spirito E in ciascuno Lo Spirito Ha il suo effetto Un effetto Che Tocca La capacità Espressiva Dell'uomo Ma Tocca Soprattutto La dimensione Della Decisione Della responsabilità Espressione E Decisione Responsabilità Per la testimonianza A cui si è chiamato Gli Apostoli Sono uniti Ma le lingue Si dividono E si posarono Su ciascuno Di loro E tutti Come la casa Furono colmati Di Spirito Santo Quindi c'è Una pienezza Dello Spirito Nella casa C'è una pienezza Dello Spirito Nel cuore Nel cuore Del credente E che cosa Incomincia In questo Momento Di grazia Straordinario L'effetto Immediato È Il parlare La lingua L'esprimere Ma Esprimere Che cosa Esprimere La verità Che ormai Abita in ciascuno Per l'incontro Personale Con Cristo L'incontro Personale Con Cristo Ecco Ha fatto Ha fatto Prendere Dimora Nel cuore Dell'uomo Al Dio Padre Al figlio suo E ora Lo Spirito Santo Apre La dimora Del cuore Dell'uomo Perché possa Manifestare Quello che C'è Nel cuore Dell'uomo L'abitazione Del padre Del figlio E dello Spirito Che Apre L'apertura Dello Spirito E sia Nell'accogliere Il dono Sia Nel Testimoniare Il dono Lo Spirito E' il vento Che apre Le porte E' il vento Che spalanca Le porte E le spalanca Sia Perché Entri Il dono Di Dio Sia perché Si manifesti Il dono Di Dio Ma A questo vento Che spalanca Le porte Colma Il cuore Dell'uomo Con Un respiro Di amore Il respiro Che ci dà Lo Spirito E' un respiro Intellettuale Indellettivo E' un Respiro Che tocca La volontà E' un respiro Che tocca Le capacità Che noi abbiamo No Il respiro Che ci dà Lo Spirito E' Innanzitutto E soprattutto E in tutto Respiro Di amore Chi è colmo Di Spirito Santo Respira L'amore Chi è colmo Di Spirito Santo Trasmette Amore Se uno Per amore Per amore Si osserva La parola E per amore Si annuncia La parola E si testimona La parola L'amore Ti fa esprimere E ti fa esprimere Non tanto Per essere Compreso Ma quanto Per far comprendere Ai fratelli Il dono Di Dio Certo Noi mettiamo Molto La dimensione Dell'essere Compresi E In apparenza Sembra che Tutta la comunicazione Tra di noi E' fatta Di comprenderci L'uno Con l'altro Attenzione La nostra comunicazione Non è solo per essere Compresi O Comprenderci Ma la nostra Comunicazione E' per Far Conoscere Il mistero Di Cristo E far Comprendere Fare Abbracciare Fare Accogliere Il mistero Di Cristo Per cui Questa Pluralità Di lingue Che raggiunge L'uomo Nella sua condizione E che raggiunge I popoli Nella loro condizione È perché Cristo sia Conosciuto Cristo sia Accolto Cristo sia Amato La meraviglia Di quelli Che risentono Parlare Erano stupiti E fuori di sé Per la meraviglia Dicevano Tutti i costori Che parlano Sono forse I cadilei Dov'è la differenza? La differenza Non è Nell'origine La differenza Adesso è Nel dono Ricevuto Cos'è Che ci rende Comprensibili Non è La nostra capacità E il dono Che abbiamo Ricevuto E che dobbiamo Trasmettere La comprensione Di un dono Grandissimo Da accogliere E da Trasmettere E quindi L'interesse Per l'altro E l'interesse Perché l'altro Possa Accogliere Il dono Di Dio La Chiesa È colma Di Spirito Santo E non deve Mai perdere Questo interesse Per gli altri Perché gli altri Non comprendano La Chiesa Ma accolgano Il dono Di Dio Il dono Il dono Il dono Il dono